ciao a tutti come ogni anno per ogni gran premio italiano faccio un video special edition e infatti non è il mio solito hot lap ma questa volta ho deciso di fare tre giri veloci quindi moto 3 moto 2 e moto gp spero di aver battuto qualche record ma non penso e per la prima volta riuscirete a vedere i giri veloci di tutte e tre le categorie e anche quest'anno come l'anno scorso ho i biglietti per il mugello quindi andrò direttamente al mugello il sabato sera fanno entrare più o meno le otto e le nove di sera passerò la tutta la notte quindi dormirò in tenda e vi ricordo che se non avete visto il video del mugello dell'anno scorso ho utilizzato la mia solita i technology e ho registrato più o meno tutta la giornata quindi se non avete visto andatelo a vedere e sinceramente non so se quest'anno farò un video comunque seguitemi sui social sicuramente qualche storia la metterò e vediamo quest'anno come si comporteranno gli italiani speriamo di non vedere un marquez che scappa via subito anche se l'anno scorso marquez ha fatto una caduta secondo me proprio il mugello che l'ha fatto cadere bene io vi lascio ai miei hotlap di tutte le categorie e ci vediamo al mugello se siete la o altrimenti alla prossima su you win blog è tutto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.